Bentornati amici di Wine TV con due chiacchiere con. Oggi abbiamo con noi Massimo Sensi, quarta generazione nel vino della famiglia Sensi, quasi 130 anni di storia. 125 per l'esatteggio. 125 anni di storia. Tanti lustri alle spalle, tutti dedicati al vino. L'azienda si trova a Lamporecchio che è diventato una sorta di laboratorio. Tante le bottiglie prodotte, un forte legame con la tradizione toscana e anche alcuni esperimenti che vi proiettano nel futuro. Sì, grazie Mattia di avermi invitato alla tua trasmissione. Mi fa piacere essere qua a parlare dei nostri vini e della nostra storia, che come ha detto ha una storia molto lunga, che inizia nel 1890 quando il mio bisnonno Pietro già andava nei mercati rionali della provincia di Pistoia e poi in Toscana a vendere i prodotti del luogo, tra cui c'era anche appunto il vino. Poi negli anni successivi, gli inizi del novecento si sono succeduti i suoi figli, i quali Armido e Vittorio, i quali hanno portato avanti ancora questa attività, fino a che poi negli anni 50-60 mio padre e mio zio ancora in azienda, tutt'oggi ben saldi al comando, hanno contribuito allo sviluppo dell'azienda, poi fino a che non siamo arrivati ad oggi, la quarta generazione. Con il vino che è diventato nel tempo il core business, no? Sì, il vino nel frattempo giustamente si è sviluppato e nei nostri obiettivi si è focalizzato come il prodotto principale. Nel corso di questa lunga storia c'è stato un momento in cui c'è stata però una svolta chiave e questa svolta chiave è stata alla fine degli anni 90, quando viaggiando, vedendo il resto del mondo e capendo quanto il vino cominciava a assumere un rilievo importante sulle tavole di tutti i migliori ristoranti, si può dire che ho sfidato me stesso nel voler affermare a livello internazionale quello che è il nome della mia famiglia, che porto con grande orgoglio e che è sinonimo per me di grandi principi molto legati alla tradizione di chi mi ha educato, della mia famiglia, ma anche ai principi di onore, di rispetto e di etica che cerco sempre di rappresentare attraverso i nostri vini, soprattutto. Sono fortemente radicati nella Toscana, i prodotti riflettono, diciamo così, la toscanità, le origini e poi giustamente, come ricordavi, il vino negli ultimi anni ha assunto anche, diciamo così, delle peculiarità, diciamo di consumo inferiore, ma di una pil maggiore e si è aperto anche ai mercati internazionali e Sensi oggi è ben presente nei mercati di tutto il mondo. Oggi il nostro marchio, il nome della nostra famiglia, è presente su tutti i mercati del mondo, in paesi ovviamente molto importanti come gli Stati Uniti, il Giappone, dove siamo il primo marchio di vino italiano per presenza, in Australia, dove siamo conosciutissimi, tant'è che a volte sull'aereo, mi è capitato di parlare con passeggeri comuni, ai quali poi ho raccontato il mestiere che faccio e mi hanno detto, ah ma mia moglie beve vini Sensi e quindi... Ti hanno chiesto un selfie anche. Quasi. Quasi, quasi. Magari mi hanno chiesto una bottiglia. E quindi sì, la nostra presenza arriva anche in paesi più impensati come l'Iraq. Più remoto. È un paese sfortunatamente bersagliato da eventi negativi, dove però ho trovato delle amicizie importanti e con i quali ho sviluppato il mercato, perché alla fine il mondo del vino è un mondo dove le amicizie, il rapporto personale ha un'importanza fondamentale, perché pensare di espandere la propria presenza a livello mondiale solo con anche strumenti più tecnici non è così semplice. Il rapporto umano è fondamentale. È fondamentale. È anche nella natura di questo prodotto così conviviale. Quindi un marketing gasettico non avrebbe nemmeno senso. No, assolutamente. Ma in questo senso, ti volevo dire, c'è anche stata una svolta negli ultimi anni, c'è un'attenzione al green, sempre più marcata. In particolare ci sono tre prodotti che avete sviluppato ultimamente. Un vino senza solfiti, un vino biologico e un vino vegano. Ci chiarisci il concetto di vino vegano? Perché da profano uno direbbe come mai una bottiglia di vino dovrebbe contenere dei prodotti di origine animale? Ma in realtà, la tua domanda è molto appropriata, è giusto chiarire un punto che può essere anche oggetto di fraintendimenti, soprattutto nell'ambito del consumo, dove non c'è una cultura sempre molto approfondita. Il trend dei vini sostenibili, così detto, è molto forte. Nel caso del vino vegano l'idea è nata perché ovviamente ho letto con attenzione gli sviluppi di quello che poteva essere appunto questa tendenza del vino sostenibile e per quanto riguarda l'uso dei prodotti di derivazione animale che normalmente vengono utilizzati per le chiarifiche o per altri processi di cantina si è cercato di eliminare questo tipo di prodotti e abbiamo fatto affidamento a processi molto più naturali come può essere la precipitazione naturale, la temperatura controllata, eccetera. Quindi abbiamo dato un percorso a questo tipo di vino che sia un percorso più spontaneo, chiamiamolo, e più incline e più vicino a quelli che erano i processi di una volta. Parlando di una volta non abbiamo fatto solo questo perché poi il contenuto del vino, cioè il Chianti vegano, il nostro Chianti superiore vegano è anche un prodotto biologico. Diciamolo anche come si chiama? Vegante, giusto per non cadere in fraintendimenti. Il vegante è anche un prodotto biologico perché i nostri vigneti sono completamente biologici e quindi è un prodotto che completa assolutamente la sua personalità con dei requisiti fondamentali. in più la ricetta che abbiamo scelto è una ricetta veramente vintage, diciamo, perché abbiamo utilizzato l'antica ricetta del Chianti che è composta non solo da uve rosse, quindi Sangiovese e Canaiolo, ma anche da una parte di uve bianche, cioè Trebbiano e Malvasia, che negli ultimi decenni erano state un po' dimenticati per via della loro maggiore acidità e che invece adesso li abbiamo recuperati con le nuove tecniche di vinificazione, dando quindi una nuova veste al vecchio modo di fare i Chianti. Ecco, e ci approcciamo a questo punto, a questo percorso, diciamo così, sospeso tra tradizione e innovazione che guarda verso il futuro al vino di oggi che ci presenti. E questo è proprio un chiaro esempio di questa ibridazione, perché si riscopre una tecnica molto antica, ma si riformula, diciamo così, in una chiave assolutamente moderna e lo vediamo anche dal packaging della bottiglia. Sì, stiamo parlando del Governato, un vino che è prodotto con un metodo di vinificazione chiamato Governo all'uso toscano. Non so se sai e penso che lo sappia che governare nel dialetto toscano significa nutrire, quindi si usa nel linguaggio anche dei bambini, quando si dà da mangiare a un bambino, mia nonna lo usava con me e quindi è un processo nel quale attraverso un appassimento parziale del 30% delle uve utilizzate, in questo caso Sangiovese, Canaiolo e Colorino. Quindi tutti vitigni tipici toscani, autoctoni? Assolutamente vitigni, tutti autoctoni. Quindi con questo processo si appassiscono per circa due settimane in un ambiente molto ventilato, le uve che vengono appese attraverso un procedimento un po' laborioso a delle catenelle, in modo che ci sia una reazione completa, non ci siano muffe a disturbare il processo, dopodiché si pressa questa uva appassita e si usa il mosto per attivare una seconda fermentazione del mosto iniziale che conferisce al vino un corpo maggiore e una nota fruttata veramente esplosiva e questa è la caratteristica principale del governato. Direi di andarlo ad aprire e di assaggiarlo insieme. Sì, fammi aggiungere che il governato poi, una volta terminata la vinificazione, viene affinato per alcuni mesi, non molti, in legno di botti di rovere francesi e poi una cosa innovativa che si intravede dall'etichetta anche in anfore di terracotta, che era un po' il modo in cui gli antichi etruschi... Tutta la tradizione, diciamo così, dall'antichità, quindi si passa dalla fruttaia in cui avviene l'appassimento, poi il legno della tradizione contadina e addirittura si torna all'epoca antica. Si torna all'epoca antica ma con una speciale attenzione a quelle che sono i comportamenti del vino ed infatti il governato è un vino che abbiamo sviluppato insieme all'Università Tuscia di Viterbo dove il gentilissimo professor Mancarelli, massima autorità nell'appassimento italiana ci ha supportato e ci ha aiutato nello sviluppo di questo vino che oggi rappresenta uno dei vini di punta della nostra azienda in termini anche di innovazione e di sforzi profusi per arrivare a questo risultato. Abbiamo detto quindi di questa bottiglia che è importante, è una bottiglia pesante, il design è innovativo e dentro c'è tanta tradizione. Si presenta con un colore rubino, questo è Vendemmia 2016? Sì, questo è Vendemmia 2016, volutamente siamo dovuti uscire in ritardo per lasciare maturare il vino una parte, come ti ho detto, in botte di rovere francesi, una parte di tempo in anfore di terracotta e quindi creare due situazioni anche di respirazione del vino differenti monitorandolo e facendolo anche analizzare poi all'Università Tuscia che con noi ha sviluppato questo importante vino e riteniamo che adesso abbia raggiunto, compreso il passaggio, come si dice, in bottiglia la maturità ideale per essere degustato. C'è uno studio quindi dietro a questo vino, avete fatto delle ricerche insieme all'Università di Viterbo Sì, l'Università Tuscia di Viterbo, nella persona del professor Mencarelli che come dicevo è il massimo esponente in Italia per quanto riguarda l'appassimento delle uve e oltre a essere un carissimo amico, con lui abbiamo cercato di portare la sperimentazione di questo vino ai massimi estremi perché tra l'altro poi abbiamo avuto anche un piccolo dibattito perché normalmente gli appassimenti si fanno negli appositi cassettiere mentre nel nostro caso siamo voluti veramente tornare indietro nel tempo appendendo le uve alle catenelle che è un lavoro enorme e deve essere fatto anche con molta pazienza e con molta attenzione per non rovinare le uve. Allora Mattia, cosa ne pensi del governato? Allora io già sentendo, roteando il vino nel calice escono fuori questi profumi fruttati e mettendolo in bocca il vino colpisce subito per questa immediata sensazione di piacevole morbidezza questo ingresso avvolgente che però poi in bocca si sviluppa con un'acidità che equilibra il tutto e abbiamo questa doppia anima del vino una morbidezza e un'acidità che si supportano, che si spalleggiano e che lo rendono un vino perfetto anche per una stagione diciamo più calda assolutamente magari si può giocare con la temperatura di servizio e non lo so, probabilmente lo vedrai bene in abbinamento a una pasta fresca della nostra tradizione con un bel sugo rosso Sì, è un vino per tutte le stagioni è un vino che puoi bere in inverno davanti al fuoco ma puoi bere anche in estate magari immergendo rapidamente in un secchiello di ghiaccio per abbassare un po' la temperatura e risaltare il fruttato del vino Beh, a questo punto Massimo, facciamo un brindisi con questo governato Assolutamente, salute Mattia e grazie Grazie a tutti i nostri spettatori